Cos'è l'ipercalcemia? Quando le persone hanno l'ipercalcemia significa che hanno un livello anormalmente alto di calcio nel sangue. Ciò si verifica spesso quando il corpo non riesce a regolare livelli di calcio, il più delle volte perché la ghiandola parateroidea è iperattiva e stimola il corpo a rilasciare troppo calcio nel sangue. Esistono altre potenziali cause di ipercalcemia tra cui il cancro al polmone e al seno e malattie come la tubercolosi. Alcuni farmaci come il litio possono anche causare questa condizione, così come l'assunzione di supplementi di calcio in eccesso. L'ipercalcemia lieve non avrà necessariamente alcun sintomo, ma poiché i livelli di calcio nel sangue aumentano, le persone possono manifestare una serie di sintomi. Potrebbero sentire nausea, vomito, necessità di urinare più spesso e avere un mal di stomaco persistente. Con il progredire dei sintomi, i muscoli e le articolazioni possono essere doloranti e le persone potrebbero essere confuse o sentirsi affaticate. L'età può esacerbare i sintomi, quelli con livelli moderatamente elevati di calcio nel sangue hanno più probabilità di avere sintomi se hanno più di 50 anni. Spesso non sono presenti sintomi e la condizione non viene rilevata a meno che non sia stato effettuato un esame del sangue. I medici confermano l'ipercalcemia osservando i livelli di calcio nel sangue con un semplice esame del sangue. Tuttavia, determinare la causa potrebbe non essere altrettanto semplice. A volte esiste una chiara causa, come la presenza di tubercolosi o il fatto che una persona prende il litio. Altre volte, i medici potrebbero aver bisogno di capire la causa principale. Questo potrebbe includere più esami del sangue per determinare la funzione paratiroidea e ulteriori scansioni del corpo per cercare la presenza di cancro o altre malattie. Il trattamento per l'ipercalcemia dipende dalla gravità e dalla causa. Se è lieve e la malattia sottostante non causa la condizione, alla gente potrebbe essere detto di assumere liquidi extra. Quando i casi moderati sono presenti, i medici possono scegliere di trattare con liquidi endovenosi, IV, per aiutare a liberare il calcio per il corpo o una combinazione di diuretici e liquidi per via endovenosa. Una gravità significativa potrebbe indicare dialisi o trattamento con farmaci come la calcetonina, che può aiutare a liberare il corpo dall'eccesso di calcio. I medici devono anche affrontare qualunque problema stia creando troppo calcio nel sangue. Quindi il trattamento potrebbe essere molto variabile. Quando la ghiandola paratiroidea è iperattiva, iperparatiroidismo primitivo, i medici possono scegliere di rimuoverla perché la possibilità di ipercalcemia residua è probabile se la ghiandola continua a richiedere all'organismo di rilasciare più calcio. Questa domanda può nel tempo causare gravi complicazioni come l'osteoporosi, lo sviluppo di calcoli renali o gravi irregolarità dell'etmo cardiaco. Quando la presenza di altre malattie crea ipercalcemia, in particolare fasi avanzate di alcuni tumori, i medici e loro pazienti devono decidere se il trattamento della condizione ha senso e aiuta a migliorare la sopravvivenza o il comfort del paziente.